e vogliamo parlare di carletto mister chef un'altra volta approfittato di Mertens che avevamo questa chicca di quello famoso se la possiamo far vedere ovviamente abbiamo la ricetta della settimana scorsa il pere musso quel gol giusto per tirarci un po' su per cercare di di riderci un po' su vediamo se la regia ce la mette in onda in modo da poterla far far vedere anche da casa nel frattempo comunque ti rispondo eccola qua da da la Eccoci qua E' belga Ma secondo me è belga C'è un po' di DNA Qualche nonno, qualche antenato E' più napoletano di noi Questa è la ricetta di Carletto Perumus alla ciruzzo Perché lui prima segna col piede E poi con questo gesto di esultanza Sembra quasi un must Che sembra che era appena sceso Dal lito mappatella Anche la canotta La canottiera Quando si scaccola Quando fa l'imitazione di Laxalte Che lo vende in giro Mertens è scognito Tornando a quello che dicevamo prima Mertens è un qualcosa in più Ecco se veniva un giocatore di livello Veramente stratosferico al posto suo Vabbè Ma se no Mertens è un giocatore Che oltre ad essere bravissimo Veramente ha una napoletanità Che secondo me Certo, assolutamente Vorrei avere un vostro perere invece Per quanto riguarda la gara di DNA Abbiamo un po' analizzato nei singoli Quello che non è andato Proviamo a dare una valutazione Come dire Generica anche di Carlo Ancelotti Secondo voi Come è stato il superato ieri Poteva fare di più Poteva fare di meno O in realtà è stato Come dire Un problema di testa nei calciatori Io dico la mia Poi vediamo Per il Filiberto E dice Io penso E l'ho sempre detto Se giocano male 11 su 13 Perché poi alla fine è così La colpa fondamentalmente È dall'allenatore Che non ha saputo forse motivare I giocatori Certo poi dopo Non puoi cambiare 12 giocatori Lui ha avuto Mi viene un termine Che è meglio non usare Ha avuto gli attributi Sia di far giocare Verdi Perché doveva giocare Sia di far giocare Di Avarà Assumendosi delle responsabilità Che io Calleonna L'avevo fatto giocare Che era semplice Poi vincere questa partita E dire ho 9 punti E sia di mettere un'asta A posto di insignia Dopo 45 minuti Non ha avuto ragione Se avesse vinto Pareggiato Sarebbe stato un genio Come era contro il mio Purtroppo alla fine Nel calcio contano i risultati Ancelotti non si può discutere Nella partita singola Si possono discutere tutti È stato sfortunato È stato poco bravo Siamo stati presuntosi L'approccio non è questo Lui l'ha detto Mi fa piacere Vederlo arrabbiato A fine partita Quello sì E poi non cercare scuse Perché noi abbiamo avuto Troppi allenatori Che in conferenza stampa Cercavano scuse Lui si vede Con l'allenatore Che si assurde Ha detto La squadra ha giocato male Penso che queste due settimane I ragazzi Quelli che restano Li farà correre Perché poi Ancelotti C'ha questo Questo Mico di essere Non è convocato Abbiamo insomma verificato Quindi è il solo insignia Per quanto riguarda Gli azzurri Nella nazionale Quindi Ancelotti C'ha questo Questo aplomb E questo fatto che è bravo Ma secondo me Uno è quando si incazza Scusate il termine Veramente lo fa bene Per te Filiberto? Filiberto è un motivatore Che è un gestore di risorse Mi ha anticipato Mi ha anticipato Io mi sono letto Molto approfonditamente Il suo libro Quando Leader Calmo Quando lui Parla molto più Delle sconfitte Che delle vittorie Mi ricordo Questo passaggio Di questa partita Di Gwynkamp PSG Lui parla Di un freddo Di una cosa E la squadra Che era svogliata E interviene Nel Tra il primo e il secondo tempo Poi il PSG Vince E' ovvio che La caratura del PSG Anche e soprattutto Al momento Che poi sarà anche Una cosa La caratura del Gingham Esatto Però vinceva il Gingham Perché non è stato detto Il fatto Ancelotti è bravo Ma ha avuto sempre Giove Giocatori forti È stato detto ieri E vinci la Champions E sono detto ieri E la domenica sportiva Che è facile Con Benzevà E con Cristiano Ronaldo Che ti risopera Fosse una colpa Che uno allena il Real Madrid Ma Deve allenare Il Sassuolo Cioè Florentino Perez Esce mezza la strada Guarda Trova Piero Romano Dice Piero Romano Vieni a allenare il Real Madrid E quello vince con il Real Madrid No volevo dire Allora A parte la catalanata È meglio perdere una partita 3 a 0 In modo così brutale In modo tale Che tu puoi ripartire Veramente dai fondamentali Piuttosto che perdere 3 1 a 0 Vabbè Questo è una È una catalanata Ma è anche vero che Insomma Prima o poi Questa Adulazione di Sarri E questa Modifica Del modo di giocare Ci doveva essere E sta avvenendo La metamorfosi Sta avvenendo Io spero che la squadra Lo segua Perché Altrimenti sono I giocatori che sono stupidi A fare ostruzionismo Però Pensare che si possa Continuare col 4-4-3 4-3-3 Che non è Il modulo 4-4-3-3 4-4-3 In balla longobarda 5-5-3 Il 4-3-3 Che non è brava Esattamente Secondo me con un uomo in più Mi ha preso No Vabbè Siamo Anche così Rafforzi il centro campo Perché Amosic non copre È stato già detto Il fatto che Amosic non copre No Stavo detto che con Giorginio La fase difensiva Era più fuori Mi ricordo che Giorginio Quando si perdeva la palla Poche volte Lo schifavano tutti Solo io Solo io gli mettevo 7-8 Vabbè Comunque In ogni caso Stavo dicendo un concetto serio Che non è da me Secondo me ci vuole un po' di tempo Per fare un'evoluzione Se c'è questa evoluzione La tendenza all'evoluzione Vuol dire che lui ci crede E chiaramente Ci sono dei moduli A lui più prediletti E secondo me Il modulo veramente più prediletto Che alla fine si farà È il 4-4-2 Con Mertens dietro a Milik E' stato detto anche Che Milik Non è un giocatore Non giocherebbe titolare In nessuna squadra top club Infatti Nella Polonia Fa la riserva Ma non lo so Questo è una Diciamo che Ancelotti Prende 5 Bisogna avere pazienza Un 5 Un bel 5 Anche diciamo Bisogna avere pazienza Perché secondo me E non vorrei Io sono uno statistico Poi insomma Ci impareremo a conoscere Però Io sono uno statistico Abbiamo preso gli stessi Seguel Che prese Peraltro Reina Pura Ci ha mutato a Reina Nelle prime tre partite di Sard Sassuolo Empoli E Non mi ricordo più Solo che erano stati Distribuiti differentemente Avevano presi 2 2 2 E tra l'altro Avevamo fatto due pareggi Una sconfitta Ma abbiamo preso 6 gol Che pure sono troppissimi Abbiamo fatto 2 I gol presi sono tanti Questa è la cosa Forse Diciamo che Napoli Dalla sua forse Se dovessimo Si dare una classifica Dei gol più belli Di queste prime tre giornate In realtà In Napoli Penso che un paio Le ha presi Vabbè Ma io penso Nella storia del calcio 4 euro goal E quello di Buonaventura Sembra Olli e Benji Questo qua Di Quagliarella Quando l'ho visto Praticamente Ho quasi Ho quasi esultato Non è mai capitato De Frelle De Frelle che segna Il primo Tra l'altro De Frelle È un mancino Quindi di destra L'altro non me lo ricordo Quello di Immobile Lo vogliamo mettere? Immobile che scarta Con una finta Mezza squadra Cioè forse Quello di Calabria È l'unico decente E normale Però alla fine Vabbè Napoli ha sempre avuto Questa caratteristica Io ricordo Quando vedi il Napoli Sarà Che tutti i colpi assurdi Pichiamo noi Che tutti I rimpalli Infatti C'è un Dove faccio riferimento A stare in pallo Proprio su Albion Esiste questo nuovo Protettore di Genova Che si chiama San Rimpallo Io ho visto Che tutti i rimpalli Loro andavano in porta Tutti i rimpalli Nossi andavano Andavano a un centimetro Alla porta Là capisci che la partita Non la addirizzi Perché poi ci sono Il calcio È uno sport molto semplice Lo capisci Dai primi 20 secondi Che il pallonetto De Insigne Andava bene Forse è quella La scena Che più riassume Lo spirito del Napoli Che ci sono in campo Secondo me È anche abbastanza sfogliato Sì Sì Ed è la dimostrazione Che arrivavi Secondo sulle seconde palle E quindi non la prendevi mai La dimostrazione è che Le statistiche Il primo gol Hai corso di meno degli avversari Quello che ha corso Il più zidischi Quindi Il primo gol Hai preso un gol Un contro peso Un calcio d'angolo Che neanche penso È da oratorio L'ha preso il Cagliari Contro il Napoli Quel famoso La campagna ha giocato bene Ma il primo gol Ce l'abbiamo attivato Il secondo quasi Quindi alla fine Bastava poco Per tenere il primo tempo E forse uscire Io penso che siano sconfitte Come diceva Filiberto Sono sconfitte salutati È vero che l'ambiente È un pochettino Ipernervoso Per tante cose Per Diciamolo Perché poi Se no facciamo finta di niente Ci sono queste spaziosità Tra Filo e antipresidente Ci sono Queste Nostalgie del passato Legittime Perché Napoli ha giocato Un calcio bellissimo Però Penso che poi Ora è il momento Di essere vicino alla squadra Perché Fare così Serve solo a dare Ulteriore nervosismo Ho visto i ragazzi Molto nervosi In primis insigne Mario Lui Lui inguardabile Proprio nervosissimo Quindi Felice Perdonami Secondo te quindi Sono problemi di testa O sono problemi tattici Cioè in una sorta di bilancia Tu Io non penso Che pesometti Che pesometti Anche se effettivamente La difesa ieri È stata inguardabile Però io penso Che è inguardabile Per i singoli Perché Coulibaly Non era lui Perché Isai È stato inguardabile Perché il portiere Non ne ha preso uno Quindi messi tutti quanti insieme Sì È vero La linea di Sarri Era molto più alta Ieri Ma non è un problema Secondo me Tattico Del calcio d'angolo Quando hai preso gol Non è il problema Praticamente tutte undici Ma del resto Ancelotti L'ha detto senza mezzi temi Ha detto Abbiamo sbagliato L'approccio Tre volte su tre Non esiste Quindi questo è l'unico Ma poi evidente Pure la mia figlia Di nove anni La cosa migliore Che c'è stata ieri È che Hai perso In questo malomodo La cosa migliore Che c'è stata ieri È che Ti ha detto Che I primi Tempi Di tutte e tre Le partite Sono da cancellare La cosa migliore Che c'è stata ieri E che effettivamente Il Napoli è stato mollo Perché significa Che da oggi in poi Tu vuoi solo migliorare Perché è peggio Di quello che hai fatto ieri Già se ti è quartiere In porta Che poi dopo Si scatenano i social E tu mi insegni Già che Siamo da decimo posto Non era meglio quello Queste sono Chiacchiere Che si spostano dal bar A freddo Tanto li abbiamo fatti tutti Pure insegna Non era meglio A prescindere dalla natura Di questi problemi Quindi si può risolvere In quindici giorni Ve lo chiedo brevemente Secondo me in quindici giorni No però secondo me Dopo la sosta Già vedremo qualcosa Perché come dicevi tu C'è una porzione tattica La porzione tattica Secondo me c'è Perché cambiare Da un gioco ossessionante E degli allenamenti Ossessionanti Ad un altro gioco Altrettanto ossessionante Perché quello è Ossessionante in orizzontale E questo è Ossessionante in verticale Non è facile Perché i giocatori Come molti hanno scritto E questo sono d'accordo Passano dal liceo classico All'università Il liceo classico C'è il professore che ti segue E ti dice Guarda Il Napoli evolverà E avremo modo sicuramente Di parlarne Ragazzi io vi do appuntamento Grazie dell'ospitalità Gianni Ci vediamo lunedì prossimo Seguitici per la nuova ricetta Tra i nostri social 17 su 24 Di Carletto Mr. Chef Continuate a seguirci Su 17 su 24 Le nostre iniziative Grazie a Gianni Che abbiamo trovato Per la mia volta E speriamo di trovare Prossimamente per altre puntate Un piacere E saluto a tutti Ci vediamo tra due lunedì Perché ce la sono Siate ottimisti Ahimè Perché il Napoli è forte Grazie a tutti